Ciao, sono Francesco Raggi, creatore del metodo Ipertensione OK. Mi sono rivolto a Francesco Chini per il discorso web marketing, per promuovere il metodo Ipertensione OK. E questo è accaduto dopo che già avevo avuto molte esperienze nel settore del marketing e del web marketing molto deludenti e tanto che iniziavo a pensare che forse non era più il caso di investire soldi, tempo e risorse nel settore del marketing perché non vedevo risultati, non vedevo migliorare nulla e perdevo solo tempo. Questo è cambiato dopo che mi sono rivolto a Francesco Chini, è cambiato profondamente perché mi ha fatto vedere per la prima volta risultati che erano anche misurabili, confrontabili. è stata un'esperienza veramente positiva, che consiglio a chi veramente ne ha bisogno e chi ha avuto già esperienze deludenti e che magari sta perdendo fiducia in questa arma che può essere vincente per la tua azienda.